Buone notizie che arrivano sul fronte dell'autostrada 24 e a 25. Dopo l'incontro dei sindaci di Abruzzo e Lazio con il ministro Salvini infatti arriva la conferma dello stop all'aumento dei pedaggi. Nuova riunione stamani a Roma presso la sede del MIT tra il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e decine di sindaci di Abruzzo e Lazio sul blocco dell'aumento dei pedaggi autostradali. L'incontro si è concluso poco prima delle 12 e 30. Conclusa la riunione al MIT sulla 24 e 25 con una delegazione di sindaci di Abruzzo e Lazio dove è stato confermato lo stop agli aumenti con l'impegno a rivedere i pedaggi a ribasso senza dimenticare la determinazione assicurata da ANAS per incrementare le manutenzioni ordinarie nel 2023. Il vicepremiere ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha già fissato un nuovo incontro a gennaio per fare un nuovo punto della situazione. Lo si prende da una nota secondo cui i primi cittadini che sono intervenuti hanno sottolineato la soddisfazione per l'approccio del ministro Salvini che vuole trasformare il MIT nel dicastero dei sindaci.